Benvenuti, questo è Miss Bianquala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere, dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi, tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sia arrivato a me, assolutamente, è perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino, un cammino che ti porterà dentro di te a comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola, inizia dal primo video nell'agosto del 2019, troverai il link qui sotto nel box informazioni e piano piano risali studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te, un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri anche di più. Se hai bisogno di aiuto ci sono i miei servizi di consulenza unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica, lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace amore ed energia. l'ha appena detto. Eccoci qui in un nuovo video. È da parecchio, non faccio un nuovo video. Sì, credo che sia proprio da parecchio. L'ultimo che ho fatto, che era quello di 50 minuti. L'ho fatto... No vabbè, dai raghi. Meno di una settimana fa. Sembrava di più, sì. Cinque giorni. Sembrava di più. Allora, oggi, raga, vi leggo due testimonianze, visto che vi piacciono e funzionano come specchio, come punto di riflessione, estremamente differenti tra di loro, ok? Già quell'altra, comunque sia, ho visto che l'avete apprezzata, che l'avete la lezione che vi ho fatto di 50 minuti, l'avete apprezzata. E c'era un'altra email che in quel video, vi volevo leggere, poi è diventato più lungo, e che mi era salvata per, appunto, questo video. Però me ne si è aggiunta un'altra, quindi detto che sto le incorporo insieme, incorporo insieme. Anche perché in questo video, cioè, voglio veramente, cioè, voglio veramente scuotervi, ok? Voglio proprio davvero svegliata, voglio proprio davvero, ok? A chi ancora sta lì sotto scacco del proprio ego, ok? E mi leggo. Partiamo subito con quella più, poi le pubblico su Instagram. E dice, ciao Giadina, non so come ringraziarti ancora, questo sta a registrarsi, perché tanto tanto questo si spegne, e non so come ringraziarti ancora per quello che mi do ogni giorno. Ti avevo già accennato che in meno di un anno ho realizzato casa nuova, ma è stato solo l'inizio di un percorso che sto facendo con risultati che chiamo miracoli. La disciplina è ormai uno stile di vita, e così ha da essere. Un'esigenza che dona miracoli in ogni istante. Adesso le riconosco. Prendere consapevolezza del potere che abbiamo è una festa quotidiana. Ebbene, sì, regano, cioè, veramente, ho fatto delle manifestazioni, per chi non sapesse sono sparita un po' su Instagram, perché sono andata con amore e famiglia, parte di famiglia, per un weekend a mare, e sono successe delle cose, sono successe delle manifestazioni, cioè, ho fatto, ho manifestato delle cose che veramente mi danno ancora di più l'estasi di quanto proprio siamo potenti. Prendere consapevolezza del potere che abbiamo è una festa quotidiana. Sono ormai qui dei vent'anni che lavoro su me stessa, ma tu mi hai svoltato la vita facendomi capire perfettamente il modo in cui bisogna lavorare. Beh, c'è sempre il famoso poi tassello che va al suo posto. Ho ribaltato tutto, tutto, tutto della mia vita. Nei rapporti lemosinavo amore, strisciavo per essere amata, e mi sono passati sopra tutti per la mia grande bontà, che oggi chiamo sottomissione totale. Eccomi qua! Miss Zerbino! Questo ero io! Da quando ho cominciato a mettere perfettamente in pratica i tuoi consigli, mi è scoppiato tutto nei rapporti. È normale il periodo di istruzione, con episodi stranissimi, lo so, lo so, ma credimi, non ho più avuto paura di rimanere sola, perché finalmente mi sono data il mio grande valore sapendo che quello che mi succedeva era proprio perché stavo ribaltando la situazione. Tu sei ormai un'amica di cuore che ascolto sempre con tantissima gratitudine. Ogni giorno mi ripeto che mi lascio fare da Dio, no, ogni giorno mi ripeto che mi lascio fare da Dio e tutto avviene ormai secondo alcuno sforzo. È così, regà. Il miracolo più grande è quello di amarmi così tanto, di starmi così tanto, di stimarmi così tanto che ho iniziato a fare cose che mai avrei pensato di fare quello, regà. Poi ho cominciato a spingere le volte, però, per fare cose che tu dici non l'avrei mai fatte, perché acquisite appunto sicurezza dovuta a quella, al riscoprire il vostro potere, le vostre capacità. Non vi fate più sminuire dall'ego, perché l'ego ormai lo tenete incatenato, lo tenete chiuso nella sua stanzetta. Sto conoscendo una nuova me che mi piace davvero tantissimo e che mi fa stare tanto bene. Questa persona ha fatto delle consulenze e corso autostima, forse anche credo madre. Aspetta, sto conoscendo una nuova me che mi piace davvero tantissimo e che mi fa stare tanto tanto bene. Mi sono fatta una chat di me stessa in cui mi sono chiamata, io sono la regina, wow, favoloso, e dove mi scrivo tutte le meraviglie che Dio mi fa vedere con occhi nuovi. È quello, cambi proprio prospettiva. Un'altra meraviglia è che sto contagiando tutti con il mio entusiasmo. La vostra energia, voi vedrete, non siete più soli? Se prima c'è la gente, è incredibile. Diventate proprio un catalizzatore, credetemi. È proprio vero che la gioia contagia, la felicità contagia. Diventate veramente come il miele per le api, il miele per le api. Un'altra meraviglia, leggo, lo uso per capire dove lavorare. È questo, da schiavi dovete farlo diventare il vostro schiavo, ok? È il compagno di viaggio che ho imparato a conoscere e riconoscere, grazie a te che lo spieghi divinamente. Regà, a posto io vi dico, cioè io ci ho stato decenni a cercare di capire come usarlo a mio favore. Visto che non si può eliminare, devi imparare. Sapete no? Il mio nemico è amico. Il mio nemico è amico. Dovete diventarvi questo, vi deve diventare. Ogni gioia non è mai solo per me, ma ne godono tutti, anche se nasce per me. È bellissima questa frase, è bellissima. È veramente una frase che direbbe il maestro. Ogni gioia non è mai solo per me, ma ne godono tutti, anche se nasce per me. Io sono la fonte, io sono la vita. Coltivo tantissimi, questo diceva, io sono la fonte, io sono la vita, io sono la via. Questo diceva il maestro. Coltivo tantissimi interessi e mi godo tutto quello che arriva, indirizzando tutto, dove e come voglio io. So con certezza che è sempre solo per il mio bene ciò che mi accade, anche se subito non lo comprendo. Le gioie più grandi sono sempre senza alcun sforzo, è vero. Grazie, grazie, grazie per essere amica di questo viaggio sulla Terra. Ti voglio tanto bene, cara Gialina. La cosa che mi sorprende è che questa persona sono più di vent'anni che faceva un lavoro su se stessa, arrancando, e la svolta ha avuto con me. Ma no perché io chissà chi so. No, perché ovviamente io non so lei che cosa avesse studiato è che nella spiritualità in generale, che sia New Age, legge attrazione, o anche la stessa religione, vi dicono a tocchetti, ok? Ma non c'è mai qualcuno che va a dice tutta. Cioè è come se a voi avete bisogno di sapere una ricetta, quindi avere tutti gli ingredienti e il procedimento, ma ognuno vi dice una cosa. Chi ve confonde, chi ve ne dice solo in parte, chi ta dice sbagliata, chi non ta dice tutta, chi ta dice un attimino tradotta male. Cioè, voi immaginate questo, che voi volete fare una semplice torta, che so, cioccolato, però non sapete bene le dosi, gli ingredienti, il procedimento, e ognuno ve dice la sua. Cioè, o ve la dice in parte, o non va a dice tutta, o va a dice sbagliata. Cioè, quando ci arrivo? La cosa che gli ho trovato era questo, ecco, cioè, ecco perché io sono andata direttamente, dopo però averlo ignorato, direttamente alla fonte. L'universo, oddio. Cioè, ho tagliato corto tutto, infatti non ascolto nessun altro, non ascolto nessun coach, non seguo nessun altro. Posso leggermi qualche libro se vedo che è molto in voga per capirne di cosa tratta. È come nel caso di Neville. Però, alla fine, non uso Neville. Assolutamente, vado alla fonte, punto. Per me, tutto quello che dice il maestro, l'universo, basta, punto. Chi? Se io devo sapere, se io devo sapere, che ne so, per capitare magari dove fare qualche lavoro in casa, e vi serve di sapere qualche cosa, cioè, vado dal costruttore, da chi la fa, cioè, vado, prendo la planimetria, cioè, vado a vedere, vado a prendermi i documenti della, cioè, vado, capito, vado alla fonte, se io voglio sapere qualcosa, cioè, non giro per altri, che so, vado a chiedere nell'artire del palazzo, no, vado alla fonte, ok? O vado a recuperarmi i documenti, vado a recuperarmi del palazzo, cioè, vado quello, se io voglio sapere qualcosa, vado alla fonte, non vado, che ognuno potrebbe di me una cosa differente. E questo è il lavoro che voi fate. E sotto gli ho risposto. Io ho detto, che bellino ha la gioia, l'amore verso se stessi. L'ornuovate voleva nascere e le hai permesso di farlo, perché non permettiamo, o meglio, l'ego non permette questo, perché sarebbe la fine del proprio regno. Perché solo noi possiamo permettere a noi stessi di rinascere, e lo capirà di meglio nella prossima email che vi leggerò. Perché solo noi possiamo permettere a noi stessi di rinascere. Dalla croce alla resurrezione, dalla croce alla resurrezione, il maestro invitava a seguire la sua via, a prendere, sentite, perché tante volte viene dovuto il Vangelo, questa lettura non ha dato mai nessuno. Il maestro invitava a seguire la sua via, a prendere la sua croce, ossia riconoscere l'ego e le sue tribolazioni, perché la croce è quello. Il maestro è stato crocifisso dall'ego umano, è finito in croce, no mai me purtroppo metaforicamente, ma la croce rappresenta l'ego umano, l'ego collettivo. Quindi il maestro invitava a seguire la sua via, a prendere ognuno la propria croce e riconoscere l'ego nelle sue tribolazioni. Ecco perché vi diceva, prendi la tua croce, seguimi, perché con l'ego potete far solo voi, sia fatto secondo la tua fede, quindi secondo il lavoro che tu fai, non poteva mettersi dentro di voi, dentro ogni persona e fare per quella persona, era quella persona che doveva fare per sé, seguendo ovviamente la via, ossia quello che il maestro insegnava. prendere la sua croce sulle spalle, ossia riconoscere l'ego e le sue tribolazioni, e portarsela sulle spalle, ossia lavorarci sopra. Quindi un maestro invitava a seguire la sua via, a prendere la sua croce, ognuno la sua croce, ossia riconoscere l'ego e le sue tribolazioni, portarsela sulle spalle, ossia lavorarci sopra, fino alla crocifissione. La crocifissione rappresentava, metaforicamente, la dissolvenza del nostro vecchio sé, schiavo dell'ego, e resurrezione al nuovo sé, in pieno potere, appunto, divino, ossia la rinascita del nuovo noi in pieno potere divino. Questo rappresenta veramente la crocifissione, quello che il maestro voleva rappresentare. L'ego che viene crocifisso, l'ego terreno che viene crocifisso, attraverso appunto il lavoro su se stessi, prendersi la croce, quindi riconoscere, riconoscere, come vedremo nella prossima email, riconoscere che noi solo siamo coloro che attraverso i nostri credo convinzioni, il lavaggio mentale che ci è stato fatto, da quando siamo nati, dalle altre persone appunto, a loro volta, ecco perché il maestro non riusciva a ritenerli colpevoli, e al padre disse sulla croce, perdonali perché non sanno quel che fanno. Capite? Questa è una spiegazione profonda che vi sto dando, questo vuol dire, lui l'ha rappresentata a livello terreno, a livello materiale, ma voleva dire rinascere nel proprio, quindi crocifiggere, noi andiamo, quello facciamo, ecco perché c'è la tribolazione del liberarsi, della disciplina, del rimettere a posto il proprio ego, del riprendere il dominio, perché c'è la liberazione attraverso la crocifissione, morte virtuale, perché il maestro non è morto, ok? Non è morto e voi non morite, ma muore, tra virgolette in realtà non muore, ma muore praticamente il vostro vecchio voi che era totalmente soggiogato, il risveglio è praticamente un inizio di via crucis che poi vi porta, se lo seguite come in questo caso, in una totale rinascita, dove siederete sul trono del vostro potere divino. Questo rappresenta. E lo vediamo meglio nella prossima mail e mi dice Ciao miss, sono Bip, ti scrivo per portare una testimonianza al team. Le testimonianze sono molto preziose perché vi danno spunto, ok? Vi danno spunto di riflessione, vi danno delle, delle, una visione magari diversa, ok? Delle informazioni in più, ok? Perché siamo qui tutti per insegnare qualcosa, per appunto attraverso il lavoro su noi stessi aiutare anche a livello involontario il prossimo. Ti ho contattato a novembre perché lui mi aveva lasciata, avevo capito che avevo causato io la rottura perché avevo tanti credo negativi, ma una parte di me non accettava ciò. Attenzione, guardate bene il quanto l'ego può essere veramente bastardo, e lo è. Lei mi ha contattato perché ha capito che c'è del lavoro da fare, ma allo stesso tempo lo rifiutava, ok? Già onorevole perché tanti, a prescindere, non se lo vogliono neanche ammettere. Ho comunque preso la consulenza e tu mi hai detto che c'era un gran bisogno del corso allo stima perché tutto parte da dentro di noi e la consulenza funziona se noi funzioniamo. Perché è la verità, regà, cioè è come comprare una bella macchina in sapella guida. Magari prima fatte qualche lezione di guida. Non ti ho dato ascolto, anzi mi vergognavo e ti chiedo scusa, regà che non vi giudico, ho pensato che volevi vendermi più roba e ho detto di no, e tu sei stata così gentile che non hai insistito, forse ti capita spesso uno, mi capita spesso due, insistere perché c'è, basta, mi ha detto no, punto, basta. Ci ho provato con la consulenza che è bellissima e c'è tanta roba e sprona molto, ma ovviamente mancandomi la base ho smollato subito. L'ego era forte e lui si è intanto fidanzato con un'altra ed è quello che so, è felice con lei. Mi costa tantissimo ammettere che si è manifestato precisamente tutto quello di cui avevo paura, ma tutto mi smia, tutto. Mi viene da ridere per non piangere, pure il fatto che lei è biondissima perché ho sempre creduto che gli uomini vanno più dietro le bionde e io sono castalla scura. Sembro scema, vero? No, non sei scema, purtroppo sei soggiocata. Non è la prima persona che sento che dice che... Ho avuto persone, anche in mia conoscenza, che si facevano bionde e no perché si piacevano bionde, perché erano convinte che bionde avrebbero avuto più facile la vita. Tempo fa, qualche anno fa, hanno fatto uno studio, un esperimento in mare sociale, dove due persone, una bionda e una castana si trovavano in situazioni tipo qualcuno che mi aiuta a portare la valigia, sti stronzati a qualcuno, e hanno notato che le bionde venivano più aiutate le more. Comunque mi pare assurdo, vabbè, non lo so, mi viene in mente una Monica Bellucci, se sei bionda, è buona come il pane o qui, vabbè, queste sono le stronzate che il leggo collettivo mette in testa alle persone. Sono qui perché voglio, come dici tu, ricominciare da me, scommettere su me, sono stanca di rimare senza arrivare da nessuna parte, voglio i corsi autostima rintracceghietto perché voglio ricominciare con la consulenza, ma voglio che sia completa. Voglio vincere Miss, non voglio più soffrire e voglio di meglio e so che posso averlo, ma ho bisogno a cui d'aiuto. Voglio essere la prossima a stare successo e so che posso farcela. Grazie Miss per l'immenso lavoro che fai, per noi ti voglio bene. Spero che mi puoi scusare, non vi giudico, regà, per aver pensato male, ma tu che fai tanto invece scusami. Te lo dico ancora, ti voglio bene, ok? Guardate la grande differenza tra chi non ha fatto un lavoro e chi ha fatto un lavoro su se stesso. Ma guardate la cosa, a me mi ha corritto tanto questa mail, è che lei dice che si è accorta che si era causata tutto, ma non era appunto ancora, non avendo fatto un lavoro su se stessa, non avendo, non è stata andata dalla base al core, alle fondamenti se stessa e essere disciplinata. Ecco che nonostante, cioè, guardate, cosa ha fatto? Nonostante sapeva? Ha ignorato? Continua a stare sotto scacco al proprio ego? Ha speso soldi, si è presa la consulenza, ma non è stata capace a portarla avanti perché ho troppo soggiocata, governata dal proprio ego, ok? Lui intanto si è fidanzato, cioè, non è, si è addirittura manifestata, la terza persona, la persona, insomma, nuova, la fidanzata nuova, addirittura, cioè, vedete, viene tutto, cioè, lo so che è difficile perché è una cosa che ci ho combattuto anche io, è una cosa che ci ho combattuto anche io, è difficile ammettere che noi siamo, cioè, è più facile scaricare barile sull'arte, è più facile puntare dito, come diceva il maestro Prost, è più facile guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altra persona, invece della trave che è nel proprio, è più facile puntare dito, è più facile perché ovviamente ci scarica dalla responsabilità, ci scarica dalla questione di dire, sono state, cioè, nessuno si vuole incorpare, ma non dovete neanche incolparvi, dovreste invece prenderla come, appunto, c'è lì dove non piangere, e lì corregge il tiro, guardate che cosa ha detto l'altra email, che cosa diceva, leggo, lo uso per capire, ora leggo, lo uso per capire dove lavorare, è il compagno di viaggio, è bellissima la frase, è il compagno di viaggio che ho imparato a conoscere e riconoscere grazie a te che lo spieghi divino a me, cioè, capite? Io quello che insegno qua è utilizzare a vostro vantaggio l'ego, perché tanto non ve ne potrete liberare, non lo potete carciare fuori da sta vita, non lo potete carciare fuori da sta macchina, l'unico modo, regà, è quando fra mille anni, fine, cioè, fine, ok? Quindi, cioè, sapete, dovete trasformare il vostro amico in amico, per forza, cioè, dovete convivere, quindi dovete arrivare a una collaborazione e vi garantisco che l'ego può essere usato, può essere domato, può essere usato, può essere messo sotto scacco, è usato a vostro favore, anche solo per il fatto che va usato a decenni esso a vostro favore, cioè, a suo favore, scusate. Mi sono, l'ego lo uso per capire dove lavorare, è il mio compagno, guardate la differenza tra chi già ha fatto questa personetta parecchio, che comunque sia, sta facendo un lavoro su se stessa con me, attraverso i corsi e consulenze, e la persona che arriva adesso e dice che riconosceva, è proprio all'inizio, questo è l'e-mail, io lo uso per vedervi il cammino e dare anche speranza a questa persona, ok? Dare anche speranza a questa persona e dire, cioè, ci può arrivare pure te, perché qua la persona è come te, ci può arrivare anche tu. Potete arrivarci tutti, ma non vi serve uno superpotere, non vi serve essere figli dell'oca bianca, non vi serve chissà che vi serve fare un lavoro su voi se stessi, e questa è una cosa che a me colpisce la questione che, come ho raccontato in un altro video, tanti di voi arrivano qui, lei è venuta, non per il lavoro su se, come adesso mi dice, adesso voglio bianmi il famoso 101, no no, lei è venuta, come tanti vengono, con la mira del, non sta bene io, e ovviamente, una volta che sto bene io, una volta che siedo sul trono non manco di nulla, no, lei è venuta perché se voleva ripiare, è ragazzo. Cioè, vabbè, che male c'è? Sì, ma lei ha fatto tutto e ha smullato per cercare di, cioè, non c'è differenza davvero fra quella, non mi sarei sorpresa se mi avesse scritto, ok? Non so se l'ha fatto, non mi ha scritto, se mi avesse scritto mi sono tinta i capelli per lui, per lui. Voi fate le cose per, no per me, per altri, non vi siete rotti il cazzo di farlo per l'altro. Quando è che vi metterete veramente al primo posto? E questo è l'effetto piedistallo, su quel piedistallo c'è posto solo per una persona, ma voi mettete avanti soltanto, mettete su quel piedistallo una persona, voi aspettate che quella persona su quel piedistallo vi faccia sentire delle regine importanti, finché, ecco perché vi dico fate il lavoro su voi stessi, investite su voi stessi, io insisto e vi dico investite su voi stessi, no sull'altri, su voi stessi perché l'arte so un riflesso, un riflesso. E se io dentro mi vedo l'ultima, se mi vedo che non so importante, se penso che quelle bionde so più belle di me, se penso che lui cercherà quella bionda e non, se sto dietro a queste cose, questo mi manifesto, questo mi manifesto. Io non sono in concorrenza, non mi sento minacciata, anzi la parlo perché tante volte si sentono minacciate, soprattutto le donne di me, si sentono minacciate dal prossimo. Io non mi sento minacciata. Ma questo succede, mi sento minacciata sul posto di lavoro, dal collega o quell'altro, che magari penso che sia più di me, mi sento minacciata da quella che mi so può portare via, io non mi sento mia cegna. Nulla. Sto weekend volevo andare a mangiare in un ristorante, che credo forse abbia una stella Michelin, vabbè, era domenica, e io sapevo perfettamente che quel ristorante già è pieno, se non ci sarebbe stato un posto. Ma ho detto, sai che ti dico, che differenza c'è fra me e un posto dove ci vanno i VIP solitamente, ci vanno persone, comunque sia, del coso, dello spettacolo, così via. E mi sono detta, no, ok, assolutamente, non c'ho differenza fra me e una dello spettacolo. La differenza c'ha, ah beh, perché fa tanto lavoro più di me, perché è più famosa di me, c'ha più sordi di me, c'ha cose, no. E mentre andavo lì, nonostante mia cosa adesiva, ma te rimbarza. Io gli ho dato poretta, te rimbarzerà tua sorella, a me no, lo scommette. Io lì, so come una de casa. Beh, raga, non vi soppia per culo. Tant'è che chi era con me, era tipo, ma con usci, appena sono arrivata, sulla porta proprio c'era il proprietario. Mi viene in avanti, neanche, neanche entro per dire salve, c'è posto per tot persone. Mi viene in avanti, mi tende la mano stretta e mi fa, ciao, ciao, come stai, tutto bene? E così, buon viso a cattivo gioco, e faccio, sì sì, tutto bene, si avvicina il, un altro collaboratore, un'altra persona, con la vista come di, e lui fa, che avevi prenotato? E io, tranquilla, non me l'ho fatta, gli ho detto, no, sono senza prenotazione. È una cosa che mi sognavo da tempo, perché avevo visto su un film, mi ricordo, su Batman, quando Bruce Wayne arriva e senza prenotazione, boom, entra e quasi si conferristola, cioè, capito, volevo provare quel brivido e faccio, sono senza prenotazione. Ma dentro di me, non ho sentito, dico, oddio, ma questo mi dice sì, senza prenotazione, allora ciao. Mi guarda e mi fa, ma sì, certo, guarda, e dice all'acqua, falli sedere lì, e ci ha fatto sedere, c'è. Capito, volevo provare questo brivido di arrivare in un posto, ok, che so che non c'era, cosa, ma stavo già manifestato ad andare in un posto, no, no, volevo il brivido di dirlo proprio a questa fratella Bruce Wayne, sono senza prenotazione, bro, sono senza prenotazione. Sapete come fanno quando sono il ricco, sono il famoso di turno, non so cazzo di nessuno, eh, raga, cioè, comprendete però che cosa, mi piace testarmi nella mia potenza. Allora, già il fatto che mi avesse, perché chi cazzo ti conosce, cioè, chi cazzo ti conosce, non è un posto dove ci fa, cioè, chi cazzo ti conosce, ok, già quello come se fossi, avevo detto, una di casa, quindi ciao con la mano stessa, cioè, e ci hanno trattato, tant'è che a un certo punto, chi era con me, siccome venivano al tavolo lì, ciao, così è, batti 5, no, raga, veramente, mi sembrava assurdo, o ciao, a un certo punto erano tipo, ma, cioè, se non sapessi che siamo a chilometri da casa, che noi siamo a chilometri da casa, e tu qui non ci vieni, ci avrebbe da di, ma qua, ci vieni a mangiare ogni giorno, ci vieni a mangiare ogni giorno, perché veramente, cosa avevo detto, mi tratta la comuna di casa, e poi mi era venuta lì per lì, ma è stata estemporanea, ma non ho dato tempo neanche di pensare, ecco come diventano immediatamente le manifestazioni subito, ok, e scusate, nel momento proprio, proprio lì, mentre mi fa la domanda, che nome stai nella prenotazione, io in automatico ho pensato, mi è venuta proprio, su, quella scena, e ho detto, sono senza prenotazione, cioè, non ho tentennato, non ho detto, porca mignotta, no no, sono senza prenotazione, cioè, mi sentivo veramente, come se fossi ultra famosa, ultra qui, ultra lì, cioè, un po' come fanno i bambini che giocano a fare il cavaliere, la principessa, senza essere sangue blu, senza vecchio regno, cioè, quello, e, ah, sì, 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 tieni, vieni, cioè, non c'era mai la prenotazione, e ho visto gli scampi, no, le mazzancolle, avevo ordinato delle mazzancolle, viene uno degli chef, insomma, viene e mi dice, signora, le mazzancolle le abbiamo finite, glieli posso sostituire, mi hanno sostituito con i gamberi rossi di ponza, che sono più, e lì per lì, la me, c'è, il mio ego mi fa, mignotta, quelle costano di più, porca mignotta, così, ma io l'ho zittata, ho detto, no, non penso proprio, anzi, ho pensato, ho detto, anzi, questo è un disguido, che questo tipo di ristorante non dovrebbe avere, beh, raga, sul conto, me li hanno scontati ben 10 euro, vi giuro, non vi sto a dire una cazza di ben 10 euro, sì, e erano gamberi che valgono di più, non erano semplici, mazzancolle, ma erano gamberi rossi di ponza che valgono di più, quando entrate in questo, ma quando fate un lavoro, ecco perché vi dico, regà, non pensate a tizio, quando venite in consulenza, sì, fatela la consulenza, ma partite da voi, vedete che poi tizio, tizia che sia, per stare a cazzo, cioè, questo, perché quello poi si legge nelle storie, quando voi fate un lavoro su voi stessi, ok? Poi dopo, non che c'è solo tizio, vi ritorna indietro pure l'ex che c'avate da elementari, cioè, comprendete? Ma dovete investire, voi non investite su voi stessi, investite sull'artri, e se investite sull'artri, investite su il nulla, perché è come un muro di gomma, perché siccome siete voi che create questo 3D, composto da persone, eventi, circostanze, siete voi che create, quindi quello che voi fate è versare acqua in una brocca, che c'ha un buco grosso così, e la versate, c'ha un buco grosso così, e la versate, c'ha un buco grosso così, e non bevete mai, ma c'è la vecchia in bicchiere, che è bucato, e quando affittate, quando bevete, questo voi fate, guardate la grande differenza fra le due mail, una che ha fatto il lavoro su se stessa, che adesso non c'ha manco tutto arresto tra poco, e una che ancora all'inizio, ok, lei ha preso la consulenza, ma è logico che gli manca, tutto quello che io faccio, non è perché assolutamente, se volevo guadagnare su di voi, ha cominciato da quelli che vengono e mi scrivono che manifesti per me, sì, già, bravo, dammi mille euro, bro, cioè, se ero veramente quella tipologia che ero qua per money, innanzitutto non tenevi i brazzi bassi, andate a vedere quanto ghia, non vediamo quelli americani, io qualcuno ho fatto dei test per vedere che cosa danno, cioè, facciamo sta, facciamo sta, cioè, c'è stata una in particolare che mi ha mandato un'email così stream in sera, così, abbiamo 100 dollari, 100 dollari, così, stream in sera con roba copiata, scopiazzata da Neville, cioè, no, regà, da Neville, da Neville, perché io faccio alcune volte, investo, per vedere gli altri che danno per migliorarmi, no, regà, quando mi è arrivata questa cosa così ho detto, un'altra uguale, no, forse di più 120, ma mi ha mandato 3 DM su Instagram, tutto era tutto tramite Instagram, quindi pensate quanto cazzo si possa scrivere su Instagram, 3 DM, anche lei praticamente scopiazzando roba di Neville, cioè, e quando gli fai presente, ovviamente dicono, ah ma, bro, se tu, che forse non sai, cioè, in confronto a tutto quello che cazzo mando, ok, perché sto qua e ci vengono aiutati, quindi se io vi dico una cosa, non è perché vi voglio venne altro, assolutamente, cioè, assolutamente, come insegnate nel corso del denaro, non dovete sempre stare a punta, i sordi si sono portanti, però, ve vi costo tante cose, io, tante cose mi danno gratuite, cioè, tante cose io ricevo regalo, gratuite, o super scontate, cioè, potete entrare in questa mentalità, potete entrare, cioè, guardate alla fine, al ristorante, io volevo mangiare i gamberi, c'erano le mazzancolle o i scampi, ma i scampi non mi piacciono tantissimo, quindi è, ma alla fine ho preso un prodotto in più, di più, più costoso, pagandolo di meno, cioè, entrate in questa mentalità, il prodotto è come il famoso caffettino offerto, ok? Quindi guardate la questione, che se io vi dico, cioè, beh, perché vi dico, c'è, bisogna questo, c'è bisogno di sto pacchetto, perché non puoi prendere una parte, poi che ci faccio, come prendere, ehm, una cosa a metà, senza l'altra, no? Come prendere il pane senza la mortacchia, come vai, come godi senza, cioè, via la mortacchia, la magni così, la gente può fare così, però, come via il pane senza nutella, cioè, chi la magna cucchiaiate, però il pane che è la nutella, a me non è che mi piace, però insomma, secondo me, cioè, ecco, non stecco senza argelato, cioè, vi manca una parte, regà, vi manca, in alcuni, in altri, arrivano, io perché ve leggo attraverso già i mail, già vedo quello che c'avete bisogno, ok? Quindi lo dico, però non vado a insistere, perché poi, come si dice, uno ci deve sbattere, purtroppo i mail è il grugno, è come il maestro, c'è chi l'ascoltava e c'è chi invece, tra l'allero e l'allà, ciao, così funziona, ok? E guardate queste due mail come sono differenti, non ci sono bacchette magiche, regà, c'è stato un lavoro che dovete fare, ma dovete investire su voi stessi, voi dovete diventare voi, quello che so io è importante, perché come ha scritto lei, è bellissimo, ha capito a perfezione la lezione, quello che si è scritto è, aspetta, ogni gioia non è mia, ogni gioia non è mai solo per me, ma ne godono tutti anche se nasce per me, questa è una frase bellissima, in questa frase è proprio riassunto, in questa è quella dell'ego che lo usa, è proprio riassunto, ha proprio capito appieno i miei insegnamenti, e vi garantisco che questa non si è fatta in un mese sta roba, questa persona non è da un mese, ok? Ma ecco il risultato, e non è più di voi, è come voi, e se c'è come diceva Hermes, voi potete essere come me, voi potete essere come voi, come lei, facendo un lavoro su voi, potete essere, la Giada, ma guarda ti dico, 5 anni fa quel ristorante non c'entrava, ma a parte non ci si avvicinava, ma non ci sarebbe entrata, non c'è, non ho le mie meta, ma sarei stata ceccata subito, subito, ce l'ha aperto, no, allora, kinderà un zerdang, affanculo, fuori dai coglioni, fine. Invece, sono stata trattata come una famiglia, sono stata trattata come una chi i sordi, come un vip, come un vip, e vi garantisco che non c'ho i mille e mille euro, vi garantisco che, vedete, ragazzi, non c'ho il punto è blu, ha riccanza, è famosa, vedo arrivo, eccola, una foto con me, ci fai un autografo? o no, assolutamente, è lì, è lì, questo è il potere che c'avete, è il potere che c'avete, ok? Io questo c'è, stamattina ho detto, io lo dico in faccia, avete rotto i coglioni di investire sugli altri, avete rotto le palle, basta di investire sul prossimo, perché il prossimo è un tuo riflesso, quindi che stai a fare? Perché? Perché tanti vengono e voglio manifestare a tizio, sì, tizio può manifestare, può manifestare non solo tizio, chi cazzo vuoi te? Però, come manifesti se ti senti meno da merda? No, e insistono, no, no, io, vanno avanti, nonostante tu glielo fai presente, io lo faccio per il vostro bene, lo faccio, a me non mi cambia niente, raga, compri, non compri, non è che mi cambia la questione, perché tanto, a me, infine, tu compri qualche cosa, non me la compri, tanto sei giocato, non ti va di facile, cioè, io voglio, voglio storie di successo, voglio quello, voglio che torni da me, come questa qua, che mi scrive e mi dice, oh, la vita mi è cambiata così a così, voglio questo, voglio che capite quello che insegno, voglio che lo applicate, e raccogliete i vostri frutti, di cui tutti voi siete capaci, segnala fate da soli, e questo è, regà, ascoltate più volte, prendete appunti, la cosa bella di alcuni è che mi dicono, più vai avanti, fai il lavoro te stessa, più magari torno ad ascoltare i video, e li ascolta questa volta da un punto di evoluzione spirituale, differente, quindi comprendono ancora di più, ecco perché vi dico andare a rivedere i video, non solo perché il vostro recupera un filtro su ogni cosa, che ovviamente non gli torna utile, ma soprattutto perché da un altro punto di vista, di evoluzione spirituale, l'ho capito ancora meglio, è il Vangelo che me veniva insegnato a chiesa, l'ho capito tanti anni dopo, quando avevo fatto un certo, una certa evoluzione spirituale, così, è così, non so, accendiamo una bella candela, questo è quanto, non mi piacciono tanti i stoppini di legno, non mi fanno un sacco un pazzimo, hanno dei modi a sti stoppini di legno, io preferisco i classici, preferisco il classico, poi questi sono bellissimi, questi li metto, classico, li compro su Amazon tipo a 3 euro, non so quanti, so, diventa fare una trentina, perché si profumo di cosa, perché mi piace dormire con il tremolio della luce della candela, tutto buio nella stanza, soltanto, tipo romantico, rinascimento, e me li metto dentro, poi sempre ho un vasetto di yogurt, vabbè c'è stata cera, perché alcuni ho tipo la cannella, e metti dentro, accendi e lasci lì, in tremolio, io, vabbè, avete capito, la luce è fioca, poi se spengo da sola, perché durano, questi durano 3-4 ore, se spengono poi da soli, e così via, però mi piace, fa molto, non ce lo riuscirò senza vedere, vabbè, la pozzo fa, vabbè, questo è un nuovo sistema, qua chiuderemo, e questo è quanto, vi aspetto con il prossimo video, yeah, parli in su, iscrivetevi al canale, facciamo buone ed energia.